E ora voltiamo decisamente pagina. I revisori dei conti in una nota ufficiale diffidano il Comune di Andria invitando ad usare prudenza negli impegni di spesa solo per i servizi fondamentali. Il nostro servizio. Ufficialmente diffidato il Comune di Andria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti a porre in essere tutte le determinazioni necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio. In una missiva del 21 novembre scorso i revisori tornano a porre l'accento sulla situazione finanziaria che nonostante le ripetute rassicurazioni del Sindaco Giorgino anche ai nostri microfoni è tutt'altro che tranquilla. Lo spettro del dissesto che alleggiava nella lettera della dirigente del settore finanziario Guglielmo del 9 novembre scorso torna insistentemente anche nella missiva del Collegio composto dal Presidente Francesco Chiello e da Giuseppe Ratti e Nunzio Lobaccaro. Indirizzata al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale al Sindaco il Collegio fa riferimento alle comunicazioni precedenti del 24 e 30 ottobre 14 novembre e richiama le determinazioni a cui è giunta la responsabile del settore finanziario e il Collegio considerate le criticità già più volte evidenziate dal Comune di Andria nella convinzione che alla luce dell'attuale situazione finanziaria dell'Emte per come è esposta dal responsabile del settore dei servizi finanziari, riporta il Collegio, possano sussistere squilibri strutturali del bilancio in grado di far correre all'Emte concreti rischi di disesto finanziario di fida lente così a formalizzare a seguito di questa segnalazione con immediatezza le determinazioni necessarie a verificare e garantire l'equilibrio di bilancio pluriennale 2017-2019, stante anche l'approssimarsi della data del 30 novembre prossimo, che affrontino così tutte le questioni elencate nella comunicazione del responsabile del servizio finanziario. In primo luogo la più volte sollecitata problematica relativa al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, quindi migliorare sostanzialmente la riscossione delle entrate, considerato che il 30 novembre è il termine ultimo per provvedere all'assestamento di bilancio. Ma vi è di più nella lettera dei revisori. Tenuto conto che nella gestione del bilancio vige un criterio di prudenza, si consiglia, si legge testualmente nella missiva, all'organo amministrativo dell'EMTE, nell'emore delle decisioni, di dar subito un atto di indirizzo rivolto a tutti i dirigenti, affinché ciascuno possa mettere la massima prudenza nel predisporre gli impegni di spesa e limitarli, in questa fase delicata, solo ai servizi fondamentali e a quelli derivanti da contratti già conclusi oppure nascenti da disposizioni di legge. Questo ricorda il Collegio al fine di evitare la procedura da mancato riequilibrio. Le forze di opposizione di centrosinistra hanno inoltrato nella serata di ieri la richiesta di un consiglio comunale monotematico, in disaccordo i 5 Stelle che non ci stanno ad un'altra rassicurazione formale del privo cittadino.